mmm 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 Russell wow una sirena all'imboccatura del porto Ariel cosa posso fare per te oh come notti in fretta scottol guarda cosa abbiamo trovato si siamo entrati in un relitto era paurosissimo roba degli umani eh su guardate wow siete stati fortunati è una cosa molto particolare sul serio che cos'è è un autentico arriccia spiccia gli umani usano questi gingilini per sistemarsi i capelli vedi basta metterlo qui farlo girare dare uno stracone e via la ecco in un batter d'occhio un'acconciatura alla moda esteticamente graziosa di cui le creature umane non possono fare a meno un'arriccia spiccia e questo che cos'è? questo non mi dici erano anni che non avevo l'occasione di vederne uno così ben fatto è un raro il timplone di soffia bla bla oh allora il soffia bla bla risale all'epoca preisterica quando le creature umane se ne stavano sedute a fissarsi negli occhi tutto il giorno immagina la noia e così hanno inventato questo soffia bla bla per fare della bella musica stai a sentire musica? oh il concerto povera me mio padre mi ucciderà il concerto era oggi forse potresti usarlo come fioriera oppure me lo dio in altra volta devo scappare grazie scatto è stato un piacere tesoro ha stato un piacere tesoro